Ah, sono così sollevata che la questione con Ricky si sia risolta. Non farò mai più una cosa del genere. Intendi avere un finto fidanzato? Eh, esatto, esatto. Oh oh, ciao ragazze! Eh, ciao Rosita! Perché entri in camera senza bussare? Perché non c'è una porta? Ah, giusto. Hai sentito qualcosa? No, non ho sentito niente. Candy, volevo dirti che ho usato il tuo profumo allo zucchero filato. Vado a scuola, ciao! Va bene, non fa niente. No, speriamo che non abbia sentito niente. Questa notizia non deve assolutamente uscire. Tranquilla, non uscirà. E poi Rosita sembra un po' dispettosa, ma sa quando non deve dire le cose. Anche perché sono stata già abbastanza fortunata che Nobu non abbia voluto mettere questa notizia sul blog. Già, mi meraviglio anche che Marco Martini, se non abbia voluto scriverlo, forse vuole lasciarti nella tua disperazione. Ah ah, forza, andiamo a scuola. Allora, Mimi, tutto pronto per la gara d'equitazione di oggi? Oh, sì papà, sono sicura che vincerà il primo premio anche questa volta. Eccellente, figliola, eccellente. E tu, Melanie, come vanno i voti a scuola? Sono un po' in ripresa? Ehm, certo, sì, ci sto provando, è che ultimamente ha avuto altre cose per la testa. Certo, tipo il compagno di vostra madre. Ehm, sì, certo, quello fra le altre cose. Quindi tu lo sai? Certo che lo so, io so tutto quello che succede in questa città, Mike. Oh, a proposito papà, volevo chiederti, ma quindi ora tu hai accesso al blog di Nobu? Già, infatti papà, quindi il blog è nostro. Non è nostro, il blog rimane di Nobu. Beh, sì Mimi, diciamo che il blog è ufficialmente mio. Nessuna notizia verrà pubblicata senza la mia supervisione. Questo perché ho notato l'importanza che sta avendo in città e non potevo permettere che venissero scritte cose sulla nostra famiglia senza un degno controllo. Ah, ok, ok, quindi comunque scriverà Nobu. Certo che lo scriverà Nobu. Va bene, chiedevo solo. Non ci provare a sbirciare nel blog. No, d'accordo, dai, andiamo. Andiamo a scuola, ciao papà. Ciao. Papà, senti, volevo chiederti una cosa. Dimmi, Mike. Tu sai di Glitter e Ricky? Sapere cosa? Insomma, perché Nobu ti ha dato accesso al suo blog? Perché voleva aiutare Glitter, sì, ma non so i dettagli. Ah, ecco. Glitter non era davvero fidanzata con Ricky. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere su di lei. Spiegati meglio, figliolo. Che la credevo una ragazza diversa, ma forse avevate ragione tu e Sabrina. Avete sempre avuto ragione su di lei. E che cosa mi stai chiedendo? Di pubblicare questa notizia sul blog, Mike? No, solo non so se è giusto che Glitter abbia questo trattamento di favore, ecco. Beh, pensaci, figliolo. Se tu vorrai, io pubblicherò la notizia che la relazione fra Glitter e Ricky era falsa. Ci penserò, sì. Allora, Betty, abbiamo trovato una soluzione al nostro problema? Ti sei decisa ad hackerare il computer di Nobu per pubblicare la notizia di Glitter e Ricky? Ah, no, Sabrina, non penso sia una buona idea. Non so che sembra stupido, ma non voglio perdere l'amicizia di Nobu. Già, immaginavo e se devo ammetterlo, nemmeno io. Ma come facciamo allora a dire a tutti che Glitter ha mentito? Sabrina! Ciao, Mike, che vuoi? Senti, io ho la soluzione al vostro problema. Il nostro problema? Che intendi? Voi volete che la città sappia che la relazione fra Glitter e Ricky era falsa. E tu come fai a saperlo? L'ho sentito dire da voi e mi fido, cioè ci credo. Beh, certo che ci credi, è vero? Non so se lo sapete, ma mio padre ha accesso al blog adesso. Voglio dire, lui ha il potere di decidere le notizie che devono uscire. Interessante, Mike, continua, ti ascolto. Ecco... Bene, ragazzi, tempo scaduto, consegnate le verifiche di chimica. Nebula, tu molto, molto brava ad aver consegnato prima di tutti. La ringrazio, professoressa, mi sono impegnata tanto nello studio. Brava, molto, molto brava. Vediamo. Ecco qua, professoressa, scusate, ci ho messo un po' perché volevo renderla più carina. Più carina? Eh sì, vabbè, solo perché una verifica non significa che uno non possa disegnarci un po'. Ci ho disegnato Spider-Man. Va bene, signor Gennarino, va bene. Andiamo qui. Signorina Glitter, allora com'è andata questa verifica? Eh, non lo so, professoressa, spero bene, anche se era davvero difficile. Oh, ma non era difficile, signorina Glitter, forse è lei che non ha studiato abbastanza. Allora, Cosmo ha consegnato, signorina Candy. Ecco qui, anch'io come segnalino ho fatto un cuoricino. Ma queste personalizzazioni voglio capire quando ve le ho chieste, comunque. Ma è bello, professoressa, che così quando correggete almeno vedete un cuoricino, un disegnino, cioè secondo me è più bello, più divertente per voi. Ma va bene, Gennarino, vi ringrazio per questa premura nei miei confronti. Bene, è l'ora di ricreazione, potete andare. Ah, meno male. Uh, che bello, non ce la facevo più, mamma mia, che fame. Allora, Glitter, com'è andata? Ah, non ne ho proprio idea, Cosmo. Dai, sarà andata benissimo, dopo tutto ti sei messa a studiare stavolta, almeno la sufficienza l'hai presa. Boh, non so. Mi dispiace, Glitter, forse avrei dovuto darti più ripetizioni. Beh, io vado a fare ricreazione, venite? Solo un momento, devo chiedere una cosa a Glitter da solo. Eh? Eh, ok, d'accordo, va bene, allora io mi avvio, ciao! Eh, ecco, Glitter, io volevo chiederti una cosa. Eh, dimmi, dimmi, in primis, mi dispiace non averti dato ripetizioni quest'ultima settimana. Ah, Cosmo, davvero, non è un problema, non preoccuparti, non è colpa tua. E poi, volevo sapere se, ecco, ti andava di... Di? Ecco, io questo weekend vado a vedere le stelle. Le stelle? Sì, il cielo sarà molto limpido e si potranno vedere tante stelle, visto che a te piacciono le cose che luccicano. Ecco, ho pensato, magari... Dai, ma certo, che cosa bella! Oh, Daisy mi ci ha portato una volta e mi è piaciuto tantissimo. Sul serio? Sì, sì, ok, allora... Ci aggiorniamo sulla chat, così mi dici l'orario e tutto. Sì, 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 ok, ti mando tutte le info in chat, va bene. Sì, ok, andiamo a fare ricreazione? Certo. Molto bene, penso che questi buzzino come i compiti per domani. Basti, no? Praticamente non potrò andare a fare shopping oggi. Oh, cielo, mi dispiace da morire, signorina Marin, per questo inconveniente. Facciamo così. Aumentiamo di azze le pagine. Eh? Marin... Ah, perché non sta mai zitta quella? Oh, ma io... Signorino Nobu? Eh? 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 Sì, professoressa? Allora, lei è un'utudente modello, ma oggi l'ho vista chatare un po' troppo con quel cellulare e non mi costringa a ritirarglielo. Eh? Sì, mi scusi. Eh? Sta chatando con la sua innamorata! Smettila, Betty, non parlare di cose che non sai. Ma come non le sappiamo? È ovvio, non fai altro che chattare con lei. Ehi, secondo te con chi sta chattando, Nobu? Non lo so. E... Non lo voglio nemmeno sapere. Allora, la incontrerai? Sì, sì, ma comunque non sono affari vostri. Certo che sono affari nostri, siamo le tue amiche. Ah, quindi non si conoscono. Forse è una delle informatrici sul blog. Tu... Tu dici? Beh, in effetti avrebbe senso. Quindi si stanno sentendo, non stanno insieme. No. E si incontreranno oggi. Esatto. Ok, non mi interessa. Certo, come no. Vuoi seguirlo? Ah, no, abbiamo tanti compiti da fare. Ah, e comunque sono davvero troppi compiti, anche troppo difficili. Non sono troppo difficili, Marine. Sei tu che non ti stai concentrando. Non è vero, sono concentratissima. Certo, come no. Stai spiando il profilo di Nobu. Non è vero. Ok, Nebula, sono pronta. Vai, Penny. Sono sicura che andrà benissimo. Sì. Ehi, ragazze, fatemi gli auguri, eh. Per che cosa, Jenny? Mi devo vedere con una persona. Con una persona? Un ragazzo? Beh, sì, sì. È un ragazzo. È un ragazzo che le piace da tantissimo tempo. Oserei dire che è quasi in fissa con lui. Nebula? Ah, vabbè, sì. È che ammiro tanto, insomma, il suo modo di fare. Il suo lavoro. Il suo lavoro? Eh, sì, vabbè. Comunque non vi posso dire niente. Perché pescarà manzia. Ma lo incontro. Anche perché lui non sa chi sono. Ma non mi dire. Sì, e quindi... C'è un appuntamento al buio? No, io lo so chi è lui. È lui che non sa chi sono io. Capi? Allora non voglio dire niente perché così si va male. Niente, non c'è niente. Comunque, è il potere della positività. E andiamo. Fatemi gli auguri, fatemi gli auguri. Stai pensando quello che sto pensando io? Purtroppo sì, amica mia. Allora, Gennarino, hai avuto modo di parlare con Ricky? Già, io sono giorni che non lo sento. Non risponde nemmeno ai miei messaggi. Beh, se per questo nemmeno ai miei. Stavo pensando di andarlo a trovare a casa per vedere come sta. Mi sembra un'ottima idea. Sì, 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 sì. Devi assolutamente andare. Insomma, in fondo siete amici. Devi aiutarlo. Sì, sì, lo aiuterò a superare tutta questa storia della cattiveria della sua famiglia. Beh, vediamo un po' come va. Vai, Gennarino. Io credo in te. Nel cuore tuo. Naruto! Naruto! Ma sì, ma sì. Risolveremo tutto, non vi preoccupate. Ah, comunque volevo dirvi una cosa. Cosa, cosa? Cosa, cosa? Cosmo mi ha invitata a guardare le stelle con lui. No, no! Ma cosa mi dici mai? Ma è una cosa fantastica! Sì, finalmente uscirete insieme. Sì, io infatti ho accettato. Sì, 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 dovevo accettare. Brava Glitter, sono fiero di te. Benissimo, adesso andrò a bussare a casa di Riki con un animo molto più contento. Che bella cosa! Una giornata è sola! Oh, Glitter, sono così felice per te! Eh, sì, però calma, calma. Non è che stiamo insieme. Io non ho ancora capito se gli piaccio oppure no. Quindi stiamo calmi, ok? Ok, non facciamoci film in testa. Oh, quando vi sposerete sarà bellissimo. Candy! Oh, ok, ce la possiamo fare. Dopotutto sono persone, cioè persone normali, voglio dire, basterà parlare. Poi Riki farà bene parlare con me, con un amico, almeno spero. Ok, ho bussato, non posso più tornare indietro. Bene, aspettiamo, posso andarmene. Andarmene? No, Gennarino, non fare la figura del fifone, per favore. Sì? Oh, salve, contessa, tutuessa. Lascia perdere. Tu saresti... Ah, sì, il ragazzo dei giornali. L'abbiamo già ricevuto. No, no. Io non consegno giornali, sono Gennarino, l'amico di Riki. Un amico di Riki? Sì, perché non hai la divisa del collegio. Perché io vado in un'altra scuola, vado a Sun Town. Dove, scusa? A Sun Town, cioè l'altra parte della città. No, impossibile, deve esserci un errore. Mio figlio non ha amici lì. Come non ha amici lì? Le assicuro che io sono suo amico, abbiamo passato tanti pomeriggi in biblioteca. Impossibile, le dico che è tutto un errore. Comunque adesso mio figlio sta male. Sta male? Sì, perché quella ragazza di Santa, appunto, l'ha lasciato. Cosa? Riki vi ha detto che Glitter l'ha lasciato? Sì, sì, quella poco di buono ha spezzato il cuore di mio figlio. A quanto pare le interessavano solo i soldi della nostra famiglia. Ma questa è una bugia! Non è vero! Glitter non è così! Beh, questo è quello che è successo a mio figlio. E comunque, se allontani dalla mia proprietà, non venga più qui. Ma, ma, mi faccia parlare con Riki! No, lui non parlerà con uno come te. Ma, che rabbia! Ehi, Riki, hai saputo? È venuto quel tuo amico pezzente. Cosa? Chi? Il tuo amico pezzente! Oh, mamma l'ha cacciato via! Chi ha cacciato via nostra madre? Il tipo, quello di Santa. Oh, povero fratello mio! Quella ragazza lì ha avuto proprio una pessima influenza su di te. Eh, ma non ti preoccupare, la nostra famiglia risolverà tutto. Certo, lei dovrebbe pagarla per come ti ha trattato. No, no, ma ve l'ho già detto. Cioè, Glitter non c'entra niente. Ci siamo lasciati e basta. Ma andiamo, Riki. Ovvio che era interessata solo ai nostri soldi. No! E poi, perché non mi avete chiamato? Perché non mi avete detto che Gennarino era qui? Ma perché dirtelo? Voglio dire, non vorrai mica respirare la stessa aria che respirano quei pezzenti. Pezzenti! Smettila di chiamarlo così, Rebecca! Pezzenti, 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 pezzenti. Rebecca, mamma, dille di smetterla! Riki, devo dirlo, sono davvero delusa dal tuo comportamento. Cosa? Quel ragazzo non mi piace. Pessima influenza, pessima. Ma se non lo conoscete nemmeno, andiamo, Gennarino. È il ragazzo migliore di questa città. Riccardo, non alzare la voce con nostra madre. Che modi! Mamma, quelle persone gli hanno fatto davvero del male. Sì, non lo vedi cosa è diventato? Andiamo, Rebecca, anteci mettere pure tu. Rebecca ha ragione, Riki. Io non ti riconosco più. Abbiamo una reputazione da mantenere in questa famiglia. Quindi regolati di conseguenza. Beh, forse, forse non voglio più far parte di questa famiglia. Cosa hai detto? Sì, perché voi siete ciechi. Non vedete al di là dei vostri diamanti, dei vostri lingotti d'oro e della vostra stupida reputazione. Riccardo! Non capisco. Vai contro la tua stessa famiglia per un pezzetto. Smettila di chiamarlo così. Gennarino è una persona meravigliosa e voi non valete nemmeno un suo mignolo. E se proprio devo dirla tutta, io, io, tu cosa, Riki? Io sono innamorato di lui, ok? Oh, il mio cuore! Mamma, Riki, ma sono cose da dire! Oh, no! Dobbiamo portarla in ospedale! Dobbiamo portarla in ospedale! Antoine, assicurati che mio figlio non esca di casa e che non parli con nessuno. Oh, certo! Resta qui, Riki. Parliamo al mio ritorno. Grazie. Grazie.